E' iniziato l'esame di maturità per 3.100 studenti pesaresi. Prima settimana da sindaco di Biancani fra programmi e costruzioni della Giunta. Arrestata in Svizzera coppia e vasa sette mesi fa dal carcere di Pesaro. Compagnia delle opere porta alla scoperta di Pesaro capitale della cultura di impresa. Marina Abramovic a Pesaro prorogata fino a domenica la sua opera immersiva dell'AE. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News. Il telegiornale di mercoledì 19 di giugno è una data che ha contrassegnato il via all'esame di Stato 2024. Sono infatti 3.122 i maturandi della provincia di Pesaro e Urbino che questa mattina hanno affrontato la prima prova di italiano identica per tutta la nazione. Abbiamo ascoltato alcuni di questi studenti dopo la consegna del tema. Mercoledì 19 di giugno è suonata la prima campanella sull'esame di Stato 2024. Prima prova di italiano uguale per tutta la nazione e così è stato per 3.100 studenti della provincia di Pesaro e Urbino. Le tracce hanno detto di un'analisi del testo che ha puntato su Ungaretti e su Pirandello e poi i temi d'attualità che hanno parzialmente rispettato qualcosa che era lecito a tendersi alla vigilia. Temi come quelli della guerra, della bomba atomica ma poi anche temi molto frequenti nella quotidianità dei ragazzi come il tema dei social, dei selfie e della comunicazione. Abbiamo ascoltato alcuni pareri all'uscita da questa prima prova d'esame di Stato. Io ho scelto la traccia B1 che era sulla bomba atomica. Un po' me l'aspettavo che usciva comunque la traccia sulla bomba atomica, sulla guerra, però dai, comunque non mi era preparato in anticipo, ho fatto lì per lì e è andata bene. Non ho fatto chissà che preparazione, cioè nel senso era stato un po' tutto lì momentaneo, le cose che mi sono venute in mente, però sono riuscita a collegarci sia a cose personali che cose riguardanti la scuola o che sapevo io. C'era una sulla guerra fredda con la bomba atomica che era il test argomentativo, quella un po' ce l'aspettavamo, infatti ce l'avevano detto anche dei nostri prof che probabilmente ci sarebbe stata, però io non l'ho fatta perché non mi piaceva. Io ho scelto la traccia A2 su Pirandello riguardante il progresso. È stata una sorpresa Pirandello come tema, non me l'aspettavo. Siamo stati fortunati, sono usciti sia autori che comunque tracce molto fattibili, se uno comunque vive attivamente nella sua età e si studia, riesce benissimo. Io ho scelto il tema C2, quindi la traccia, il tema libero, che parlava di social network e un po' di attualità. Io ho scelto la tipologia C e ho parlato sul diario, c'era scritta una traccia su come i social hanno un po' cambiato la modalità di scrivere i nostri pensieri sul diario. Quindi non è più una cosa segreta, visto che adesso i nostri pensieri li espressiamo sui social. Quindi siamo un qualcosa che fa parte della vostra quotidianità? Sì, sì. Infatti all'inizio ci siamo preparati più su tipo l'intelligenza artificiale, ma non è uscita quella e quindi... però comunque eravamo lì. Io ho scelto il C1, quello sull'elogio dell'imperfezione. Come mai? Perché riguardava un po' degli aspetti che mi piacevano, quindi riuscivo a fare un tema abbastanza sviluppato, senza molti intoppi, mettiamola così. L'attualità, quindi di conseguenza era più facile parlare rispetto, per esempio, a fare le tracce quelle iniziali che dovevi anche avere una base di studio. Ho approfondito che c'era in quel diario, c'era Anna Frank, ho approfondito quello che ha fatto lei e non so, mi ha ispirato molto questa tipologia. Perché ho approfondito anche con Baudelaire e altri autori. Dizionario in mano, usciti dal tema, intanto il dizionario è servito? Poco, poco che niente, sinceramente. Però lo si porta per fare bella impressione, dai. Che tema è stato scelto? È stato scelto la traccia B1, che parlava la storia d'Europa, la guerra fredda, questa cosa qui, il tema storico. Io per il tema ho preparato solamente qualche traccia, come l'intelligenza artificiale, come ci si aspettava. Poi non è uscita. Io ho scelto la traccia B1, come lui, sulla guerra fredda, la storia dell'Europa, così. Però no, generalmente non ci si prepara. Consegnato il tema, l'esame di Stato prosegue domani, 20 giugno, con la seconda prova specifica per ogni tipologia di istituto. Oggi era il giorno relax, però da domani si inizia ad avere più paura. Il difficile inizia ora, sì, oggi pomeriggio ci prepariamo per la seconda prova, che sarà matematica per lo scientifico, e vediamo come andrà. Sono passati dieci giorni dall'elezione di Andrea Biancani, nuovo sindaco di Pesaro, e una settimana dal suo insediamento in municipio. Il nostro Teobaldo Bianchini ha incontrato questa mattina il neo sindaco per fare il punto sulla partenza di questo nuovo mandato amministrativo per la città. Questa prima settimana, perché poi da giovedì scorso, la stiamo utilizzando per cercare di mettere in piedi quanto prima la squadra di governo. Individuare la giunta non è mai una cosa semplice, ci sono ovviamente tante aspettative. Sto cercando di tutto, insieme alla mia squadra, di trovare una sintesi in maniera tale da trovare le persone giuste, da mettere nel posto giusto. Sono convinto che entro qualche giorno potremo arrivare alla sintesi, e quindi saremo pronti poi per convocare il Consiglio Comunale, e quindi partire veramente con questo nuovo governo comunale. Dal punto di vista delle aspettative, sicuramente i cittadini hanno molta aspettativa, cercheremo di non deludere. Chiedo anche ai cittadini, anche se ho dovuto fare addirittura un post, di avere un po' di pazienza, nel senso che continuano, i primi giorni mi arrivavano tantissimi messaggi con indicazioni, suggerimenti, segnalazioni. Ovviamente la squadra oggi non è ancora pronta, e quindi è difficile poter gestire centinaia e centinaia di richieste o comunque di suggerimenti, e quindi chiedo appunto ai cittadini di aspettare qualche altro giorno, ma comunque al massimo qualche settimana, e poi appena abbiamo fatto la squadra, appena partiamo con il Consiglio Comunale, e saremo sicuramente in grado di voler dare quelle risposte che abbiamo promesso a tutti. Come è stato lo switch dal Consiglio regionale al Sindaco di Pesaro? Qual è il cambio più radicale che ha notato? Beh, innanzitutto ovviamente non posso nascondermi, il Comune è una realtà, un'amministrazione, un ente che conoscevo comunque già bene, ho già fatto l'assessore, ho comunque mantenuto in questi nove anni che ero in Consiglio regionale, un legame molto forte con l'amministrazione comunale, l'ottimo rapporto che comunque avevo con il Sindaco Ricci, con tutti gli altri amministratori, gli assessori, e quindi diciamo che in questi nove anni non mi sono mai allontanato dal Comune di Pesaro, e quindi è come un ritorno a casa, sicuramente molto stimolante, mi fa molto piacere, eviterò di fare tre ore di viaggio tutti i giorni per poter raggiungere la sede lavorativa, in questo caso prendo la Vespa, prendo la bicicletta, in poco tempo riesco comunque ad essere operativo in Comune. Fantastichiamo un po', se avesse la bacchetta magica Andrea Biancani, cosa farebbe? Anche qualcosa di impossibile? Io ho già detto che a me piacerebbe molto riuscire a dare una risposta, sia per quanto riguarda il Viale Trieste, sia per quanto riguarda il porto. Se avessi la bacchetta magica farei arrivare la Draga per riuscire a rendere il porto un vero porto utilizzabile, un porto a servizio dei tanti cittadini, dei tutti i diportisti, ma soprattutto dei turisti che vogliono raggiungere la città con la propria barca, perché anche questo è un settore che non possiamo sottovalutare. Dall'altra parte avere i soldi, il progetto pronto di Viale Trieste, perché penso che abbinati ai tutti i grandi lavori che stiamo portando avanti per il centro storico, e non solo, anche in tutti i quartieri, riusciremo veramente a trasformare Pesaro, facendola diventare sempre più bella. Aveva parlato del primo lavoro da fare, sull'aspetto culturale, museale, come sta andando? Beh, devo dire che sta andando bene, già siamo riusciti ad aprire i musei con un progetto che si chiama Scacchiera, vuol dire che comunque un museo aperto tutti i giorni durante l'oraria di pranzo c'è già, è partito pochi giorni dopo che mi sono insediato, ne avevo parlato con l'assessore Vimini, siamo subito riusciti a rendere aperto il museo durante l'oraria di pranzo almeno uno spazio museale. Ora il nostro prossimo obiettivo è quello di riuscire ad aprire anche ulteriori spazi della cultura, non è scontato che ce la faremo, ma sto pensando ovviamente alla Domu, sto pensando al Teatro Rossini, sto pensando alla Sinagoga, quindi a tutta un'altra serie di altri luoghi della cultura che dal mio punto di vista meriterebbero di essere aperti, di essere visitabili. Un'ultima domanda, c'è un messaggio che Andrea Biancani da sindaco vuole mandare ai cittadini pesaresi? Il messaggio che voglio mandare, ma già si sono accorti, il mio carattere non cambierà, sono una persona solare, una persona che ha il piacere di parlare con tutti, con tutti i cittadini, e quindi quel messaggio che voglio dirgli è che comunque il sindaco c'è, il sindaco è vicino alle esigenze di tutti i cittadini, ovviamente non arriveremo, non riuscirò ad incontrare sempre tutti, perché ovviamente ognuno di noi ha dei limiti, però i cittadini devono sapere che hanno un sindaco presente, un sindaco che ama la propria città e che farà di tutto per renderla appunto sempre più, come dicevo, bella, inclusiva, accogliente, una città dove i pesaresi non solo devono avere il piacere di poter vivere. Dopo sette mesi di latitanza è stata arrestata in Svizzera una coppia di detenuti che era evasa dal carcere di Pesaro lo scorso novembre. Dopo sette mesi in fuga si è conclusa la latitanza di Emilian Bici ed Ermelinda Spachiu evasi dal carcere di Pesaro lo scorso 14 novembre. La coppia di origine albanese era riuscita a far perdere le proprie tracce durante uno dei turni di lavoro che svolgeva in un terreno agricolo sul San Bartolo, terreno in cui quotidianamente venivano accompagnati dal penitenziario di Villa Fastigi assieme ad altri detenuti. I due fuggiaschi sono stati fermati ad un posto di blocco in Svizzera dalla polizia elvetica. Su di loro pendeva una condanna per tentato omicidio dopo un fatto di sangue risalente a gennaio 2018 avvenuto nel Ravennate. L'evasione destò sconcerto a Pesaro anche perché la donna avrebbe finito di scontare la pena pochi giorni dopo la fuga. L'identificazione della coppia è avvenuta grazie a una meticolosa operazione incrociata fra le autorità italiane e svizzere. Coppia che è attualmente a disposizione delle autorità elvetiche in attesa del procedimento di estradizione verso l'Italia. Si chiama la giostra, si è fermata, l'operazione della guardia di finanza di Pesaro che ha portato agli arresti di tre indagati ad una misura cautelare interdittiva nei confronti di un quarto indagato e a sequestri preventive a carico degli stessi quattro e di due società per un ammontare di 490 mila euro. Un'attività che ha bloccato illecite richieste di finanziamenti pubblici erogati con fondi PNR per oltre 15 milioni di euro che sarebbero stati stanziati da Simest, società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti. Una complessa attività di indagine inizialmente intrapresa nei confronti di una SRL avente sede formalmente dichiarata a Pesaro e beneficiare di finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato e dall'Unione Europea riconducibile ad un soggetto che si risultava essere amministratore unico. Durante le indagini è emersa l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli approfondimenti hanno consentito di individuare ulteriori casi analoghi di frode a favore di altre società con sedi legali nella provincia di Ravenna e di Bolzano. Il quadro complessivo ha evidenziato a carico degli indagati ben 15 casi di truffa aggravata. Cambiamo argomento e ci occupiamo di un approfondimento dedicato a Pesaro, capitale della cultura, in questo caso capitale della cultura d'impresa. Pesaro è anche capitale della cultura d'impresa. Va in questo senso l'impegno della Compagnia delle Opere che oggi nella sede della Camera di Commercio ha presentato l'evento che domani 20 giugno avrà il suo clou in due momenti di confronto. Prima al Teatro di Cartocetto, poi in un convegno all'Hotel Charlie di Pesaro volto ad indagare la profondità del legame fra cultura, territorio ed impresa. Un progetto che è diventato anche un video realizzato grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori del territorio che hanno raccontato le loro storie e le loro visioni di futuro. Video che sarà mostrato domani all'Hotel Charlie alla presenza di 200 imprenditori e autorità locali in un confronto che partirà dalle relazioni del Presidente Camerale Gino Savatini, del Presidente della Fian Vittorio Livi, del Presidente della Cooperativa dell'imprevisto Silvio Cattarina e del Presidente nazionale di Compagnia delle Opere Andrea della Bianca. La volontà nasce dal continuare un lavoro in cui l'impresa, l'imprenditore, l'impresa sociale, l'impresa educativa ha un compito e un ruolo che non è soltanto quello del contenuto economico a fine anno molto importante per la stabilità delle imprese ma ha un compito sociale e culturale che quotidianamente ha a che fare con l'imprenditore che deve fare le sue scelte, ha cura il territorio, ha cura le persone che lavorano con lui. Le persone che lavorano in questi contenuti economici, che accettano la sfida di contribuire a far crescere una natura imprenditoriale che ha un impatto sociale e territoriale che aiuta a crescere e a far crescere un territorio. È nata l'idea di un progetto che fosse collegato alla cultura del territorio e approfondisse quello che è il legame, il dialogo tra l'impresa e la cultura del territorio appunto. Perché molte imprese hanno come proprio humus la cultura presente nel territorio non solo come competenze ma anche come valori che si respirano in un territorio, relazioni che si respirano in un territorio e quindi ne fanno la stessa caratteristica imprenditoriale del proprio brand ma anche spesso dei propri prodotti. Per questa ragione questo progetto ha teso ad approfondire tutti questi legami e le ragioni profonde che caratterizzano l'impresa e costituiscono il volano dell'impresa locale. La cultura d'impresa è uno dei principali motori per lo sviluppo del territorio e noi come banca di credito cooperativo presente con quattro filiali su Pesero ma 11 in tutta la provincia non potevamo non rispondere presenti. Noi da buoni cooperatori quello che vogliamo fare è fare il bene comune. Il terzo settore poi è una delle nostre passioni oltre che specialità e quindi anche per il prossimo settembre lancieremo una campagna molto forte sulle società del terzo settore proprio perché riteniamo che sia un motore di coesione e di sviluppo del territorio. E continua il ricco programma di appuntamenti della sessantesima mostra del cinema di Pesero che questa sera alle 21.30 in Piazza del Popolo proietterà Forrest Gump nel trentennale del film di Robert Zemeckis vincitore di sei premi Oscar. A presentarlo sarà presente in piazza il celebre doppiatore Francesco Pannofino e il pluricampione di maratona Giorgio Calcaterra in memoria del tema della corsa ricorrente all'interno di Forrest Gump. E concludiamo il nostro telegiornale parlando della presenza a Pesero in questi giorni dell'artista Marina Abramovic in occasione dell'opera The Life che viene anche prorogata per qualche giorno al centro Arti Visive Pescheria. Inserendosi nella dicotomia tra presenza assenza, tangibile e non tangibile che è motivo fondante della sua opera The Life, l'artista della performance Marina Abramovic ha fatto tappa in carne e ossa a Pesero per quello che doveva essere il finissage dell'esposizione e che invece diventa una proroga della possibilità di fruire dell'opera immersiva The Life fino a domenica. Prima Villa Imperiale, poi al Teatro Rossini, l'artista serbo-statunitense, assieme al regista Todd Eckert, si è aperta al suo concetto di essere artiste e ha spiegato la genesi di un'opera che punta sulla realtà mista fra virtuale e reale, sul concetto di immortalità e sul fornire la presenza anche quando l'artista dovrà assentarsi dal mondo terreno, così come sul superamento dei limiti, sulla libertà di sperimentare e su quella di interpretare l'arte. Forse proprio grazie all'opera dell'Abramovic lo possiamo definire un anno straordinario perché straordinario è stata l'occasione di ospitare per la prima volta in Italia un'opera che è stata realizzata e presentata nel 2019 alla Serpentine Gallery di Londra e che è stata ospitata in diversi altri luoghi del mondo, ma a dire di Todd Eckert mai l'installazione fu così aderente all'idea dell'artista. Quindi non soltanto abbiamo il piacere di avere l'opera dell'Abramovic e l'Abramovic stessa in questi giorni con noi nella relazione col pubblico, ma abbiamo anche il piacere di avere un allestimento impeccabile. È una grandissima opportunità che il Capitale Italiano della Cultura offre da Pesaro a tutta Italia in realtà e a tutto il mondo. Ricordiamo che prima di Pesaro il debutto di Grenoble, poi Los Angeles, Londra e sono state pochissime altre, forse solo queste, le occasioni in cui potete riferire di questa opportunità. Oggi in presenza e soprattutto anche come abbiamo appena annunciato, l'esperienza è replicabile, avrei voluto terminare oggi al centro artivisivo e pescheria, ma un po' per il successo, un po' anche per l'accordo e la disponibilità di Marina sarà possibile, di Todd sarà possibile in pescheria a fuori dell'esperienza fino a tutta domenica. Quindi insomma tantissime altre migliaia di pesaresi, visitatori, artisti potranno entrare in relazione con Marina Abramois per questa esposizione che sicuramente entrerà nella storia della Capitale e anche nel centro artivisivo e pescheria. E si conclude qui questo nostro spazio informativo di Rossini News, informazione che continua anche subito dopo il Tg, alle 20 è infatti in programma una nuova edizione del magazine La Natura della Cultura che va in onda il mercoledì, ma anche il lunedì e il venerdì alle 20, ma anche negli orari delle 8 e delle 13. Un format di approfondimento sui tanti eventi legati a Pesor Capitale della Cultura con tutte e tre le puntate che vi riproponiamo anche nel weekend, il sabato alle 12 e alle 19 e la domenica alle 15 e alle 21. E poi questa sera alle 21 e 20, prima serata dedicata alla terza puntata del documentario L'Isola che c'è tra sogno e realtà, documentario realizzato nel territorio di Isola del Piano, puntata questa sera dedicata ad una passeggiata tra legalità e resistenza alle 21 e 20. A seguire alle 21 e 40 andremo alla scoperta di un'attività del territorio di Pesaro, la rinnovata sede di Pesaro in moto, come detto appuntamento alle 21 e 40. E poi vi ricordo naturalmente l'appuntamento del mattino con l'informazione di Buongiorno Rossini, la segna stampa dei quotidiani locali che nell'edizione di domani giovedì 20 giugno sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu. Si conclude invece qui lo spazio informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.